Curiosità e partecipazione a Tolentino per la due giorni di Open Day del Centro Esserci, una nuova realtà attiva in campo socio-sanitario. Il Centro Esserci di fatto si costituisce un anno fa. Il mezzo che ha reso possibile poi tutto il percorso è stata la vincita di un bando provinciale e di un bando regionale poi. Questo è stato un po' il mezzo che ha reso possibile questo sogno. Un gruppo di professionisti che vanno dal neuropsichiatra infantile alla figura dello psicologo, logopedista, pedagogista, musicoterapista, un tecnico operatore di S.A. che si occupa di strumenti compensativi, fino ad arrivare nell'area educativa ad una counselor e formatrice che si occupa di percorsi orientamento, una parte dedicata al doposcuola interculturale. Siamo un team che in realtà è fuori dall'equipe multidisciplinare, meno visibile ma non meno importante, che si occupa di formazione e progettazione. Qual è il target a cui vi rivolgete? Il target è il 0-18 anni e ovviamente parlando di minori anche le loro famiglie. Oggi con grande onore usciamo al pubblico, al territorio anche con un aspetto molto importante, di essere stati accreditati a livello socio-sanitario in materia di S.A. sia in diagnosi che in riabilitazione. Affrontare le tematiche dei bambini che hanno difficoltà di apprendimento, soprattutto le forme di disturbo specifico di apprendimento, è un problema che interessa tanta popolazione scolastica. Normalmente si dice che ci sono dal 3 al 4% della popolazione che ha questo difetto, ma spesso è sottovalutato in quanto si aggiungono altre difficoltà, difficoltà comportamentali, quali l'iperattività, la disattenzione, oppure difficoltà di tipo psicologico in senso stretto, tipo comportamenti di ansia o anche di aspetto depressivo. Però occorre anche ricordarsi che nel disturbo specifico di apprendimento non è una malattia, si tratta di un processo maturativo che è più lento in questi ragazzi, quindi hanno delle difficoltà, una disfunzione così definita neuropsicologica, che una volta conosciuta, essendo ragazzi intelligenti, è possibile modificare, sfruttare altre strade per portarli a quel concetto di apprendimento normale, quello che poi fa piacere sia ai genitori, le famiglie, ma anche agli insegnanti per la loro professionalità. Per quanto riguarda i DSA, la terapia può essere di gruppo o individuale, puntiamo molto su quella di gruppo per curare la relazione, che in questi casi è un ambito molto importante, quindi la relazione a scuola, la relazione con i pari e la relazione con gli adulti. Lo staff al completo di Esterci ha partecipato alla due giorni di Open Day per far conoscere le attività e sperimentare i servizi offerti dal centro. In questi due giorni abbiamo messo in mostra tutti i vari professionisti che sono all'interno del centro, quindi tutte le attività che possono svolgere, i servizi che possiamo dare agli utenti. Siamo felici appunto di quello del risultato che abbiamo ottenuto, speriamo di continuare in questo modo e di andare alla grande anche nei prossimi anni. Un Open Day ricco di laboratori, il laboratorio di logopedia ha proposto la favola animata e ne parliamo proprio con Valentina Trappè, protagonista di questa fiaba e tra i porcellini che ha divertito, abbiamo visto tanti bambini. Sì, allora abbiamo fatto questa favola perché è una delle preferite dei bambini e perché era già stata fatta altre volte anche in sede di terapia, perché aiuta i bambini a sviluppare la capacità narrativa, la capacità di comprensione e di drammatizzazione. E quindi l'abbiamo riproposta in un Open Day perché è divertente ma allo stesso tempo ci dà molti spunti poi per lavorare. Il centro ESSER ci offre anche la possibilità di seguire laboratori specialistici per bambini con particolari disturbi dell'apprendimento. Con Sergio Sperlanzoni che è operatore di S.A. cerchiamo di capire come sono organizzati questi laboratori. Che cosa fate? Sì, noi lavoriamo con degli strumenti compensativi, quindi tentiamo di far superare agli utenti che vengono da noi determinate disturbi specifici dell'apprendimento tramite appunto dei software. Che fascia d'età comprende? La fascia d'età va dai 6 diciamo ai 18 anni, soprattutto però il target che noi copriamo è appunto quello della scuola elementare e scuola media, quindi dai 6 ai 12. Cercare di fare i compiti divertendosi, questo è un po' il servizio che offrite? Più che lavorare solo sui compiti cerchiamo un po' di fargli acquisire un metodo di studio che possa aiutarli a studiare al loro modo e quindi ecco l'atmosfera non è quella delle ripetizioni dure e severe, è più un'atmosfera divertente che possa aiutare ad avvicinarli alle materie con uno spirito migliore insomma. Molto partecipato il seminario dedicato ai rischi del web e i vari laboratori di musicoterapia e quelli dedicati alle mamme in attesa, alle quali sono riservati molteplici servizi. I corsi di accompagnamento alla nascita che coinvolgono sia la mamma, la futura mamma che la coppia e riguardano poi invece un'altra area che è l'area del dopo parto e quindi c'è un servizio che viene chiamato il salotto delle mamme dove le mamme possono incontrarsi qui con i bambini e appunto parlare di tutto ciò che riguarda il dopo parto. Un altro servizio, un altro spazio è quello del latte coccoli in cui parliamo invece dell'allattamento e un ultimo spazio è quello riguardante il massaggio al neonato dove la mamma appunto può entrare in contatto attraverso le mani con il proprio bimbo. La musicoterapia è applicabile sia a bambini che ad adulti ed è in collabora con tutte le altre figure che si occupano della cura della persona quindi sono tantissimi i percorsi che si possono fare ed è importante che ci sia interesse e fiducia in questa terapia fondata proprio sui suoni. In esserci ci occupiamo sia di orientamento scolastico che lavorativo quindi rivolto a ragazzini, ragazzi e anche adulti attualmente abbiamo in essere dei percorsi di orientamento nelle scuole medie e l'approccio con cui esserci si affaccia all'orientamento soprattutto scolastico è quello di un percorso che dura nel tempo che dura più di un anno, questo che significa che per orientarsi occorre sviluppare delle competenze abbastanza specifiche che sono la capacità di scelta, l'autoriflessione su di sé, il problem solving, la capacità di leggere il contesto eccetera tutte capacità che come si può intuire non si possono sviluppare pochi mesi prima della scelta ad esempio della scuola superiore ma che vanno un po' coltivate nel tempo perché poi in effetti ci può essere un'educazione a queste competenze e un allenamento quindi quello che facciamo è partire per tempo, proponiamo questo nei nostri progetti. La sfida futura di esserci ci spiega una delle tre fondatrici di guardare oltre confine per costruire sinergie e nuovi progetti con altre realtà locali in tutta Europa. Io in questo momento non abito qui, abito a Bruxelles, l'idea è proprio quella di dire valorizziamo il territorio però portiamolo fuori, apriamo una finestra sul mondo, cerchiamo altre realtà e confrontiamoci perché le realtà piccole da altre parti possono imparare da noi, mai sottovalutarsi però anche noi dobbiamo imparare dagli altri. Sono delle persone giovani che hanno intuito quello che è l'esigenza del luogo, del mondo hanno l'intuizione vera di dare una continuazione a quello che il pubblico ormai non garantirà più quindi avranno un futuro, una proiezione che secondo me è quello che occorre. Bravissime e complimenti per l'iniziativa.